Il mio compito è molto semplice, avete visto l'inquadramento culturale, avete sentito l'inquadramento culturale del professor Balsani, le linee generali con cui approccieremo la costruzione del sistema museale regionale e il percorso di riconoscimento barra accreditamento dei musei. Poi magari vedremo le relazioni tra le due cose perché naturalmente ci sono. A me spetta quello di vedere come questo percorso sarà effettuato, come lo effettuerà l'istituto attraverso il servizio biblioteche, archivi, musei e beni culturali. Dico subito che su questo progetto è impegnato l'istituto anche nella sua interezza, credo, e naturalmente il servizio. In prima battuta voi saranno impegnate alcune colleghe che conoscete molto bene perché le avete conosciute in tutti questi anni, penso Valentina Galloni, Gilberta Franzoni, Beatrice Orsini, Gabriele Sino, che saranno come dire accompagnate dalla sapienza di Patrizia Tamassia, di Fiammalenzi, di Margherita Sani e poi naturalmente vedremo perché come capita in ogni progetto poi naturalmente le squadre saranno dimensionate, saranno cambiate o rinforzate eccetera. Noi abbiamo, da dove partiamo? Abbiamo un numero notevolissimo di musei, è stato sottolineato prima, sono 546 che rappresentano un territorio che è molto grande, molto lungo, quindi molto ricco, molto diversificato. È stato questo sempre la ricchezza della nostra regione, come spesso l'assessore Mezzetti ribadisce proprio questa grande pluralità. Noi andiamo da aree che hanno 122 musei, ad esempio Bologna, ad aree che ne hanno 38 come Piacenza, ad aree che hanno una prevalenza di musei privati come ad esempio Piacenza e una generale prevalenza di strutture pubbliche come in quasi tutti gli altri territori. Questa diversità è un grande valore, vuol dire diversità di culture, anche di culture organizzative. Io avrei potuto anche intitolare questa relazione co-costruzione del sistema museale regionale, perché come ha ricordato il direttore questo percorso sarà partecipato, sarà fatto insieme come credo siamo abituati a fare in questa regione. Io mi occupo di reti anche se ho dedicato ad altre tipologie da 27 anni, che sono tanti, e non ho mai visto reti intese come costrutti, anche organizzativi, che abbiano avuto successo senza che innanzitutto ci credano gli attori, quindi che ci crediamo innanzitutto noi, noi intesi come operatori del settore. Quindi questo deve essere un nostro sogno, perché se così non fosse, naturalmente sarà difficile creare un sistema come lo stiamo immaginando e con prestazioni come stiamo immaginando. Questa slide, vedete, ribadisce il concetto, la maggioranza dei musei di questi 546 è pubblica, ma una buona fettina è privata. Se andiamo ad analizzare, vedete che possiamo dire che 332 di questi musei sono di enti territoriali, 150 sono i comuni che hanno musei e sono 260, questo ci può già consentire qualche ragionamento. Per quanto riguarda i privati, la maggioranza sono di enti ecclesiastici, poi abbiamo fondazioni e associazioni. Questa diversità ha naturalmente un rilievo, come vedremo poi anche nella implementazione dei LUC. Questa slide esplode meglio il mondo dei musei privati e ribadisce la consistenza che dicevo prima nell'ordine di enti ecclesiastici di fondazioni e associazioni. E ribadisce, direi, quel carattere di grande pluralità, che è una ricchezza di grande diversità che abbiamo. Se analizziamo, io ringrazio per questi dati Fiammalenzi, il gruppo del catalogo, il gruppo di Pater, perché ovviamente sono dati che vengono gestiti nei nostri censimenti, e quindi è doveroso ringraziarvi perché altrimenti io vi direi delle assolute sciocchezze. Questa slide è significativa perché è l'anno, diciamo, di istituzione del museo. Vedete che gran parte sono nati, una buona, una fetta significativa, quella blu, sono nati dopo il 2000 e dopo il 2000 c'è stato effettivamente per ragioni anche abbastanza comprensibili, visto che riguardano proprio gli enti lucani, una grande polluzione di istituzioni museali che ha posto poi un problema, o meglio ci dà un dato su cui riflettere poi quando naturalmente analizziamo l'intero sistema dal punto di vista della sostenibilità per i titolari di queste strutture. Qui potete vedere, diciamo, in estrema sintesi, ma sembra significativa, vedete come questo sistema è costruito anche da molte piccole realtà, che quindi hanno un numero di visitatori inferiore ai 10.000 e naturalmente salendo, quindi se prendiamo i musei con oltre 35.000 visitatori o 50.000, vedete che si assottiglia il numero. E anche questo è un dato che va tenuto presente proprio nelle logiche organizzative del sistema, perché questi sono i dati di partenza che poi la logica cooperativa, la logica della condivisione dovrebbe consentire di migliorare. Ora, naturalmente, noi sappiamo la legge 18 utilizza il termine organizzazione museale regionale, lo usa per connotare l'insieme delle strutture che ne fanno parte. Questa logica organizzativa del sistema, diciamo, viene posta con grande vigore in questo momento. In precedenza, cosa c'è stato? Lo ricordava anche prima il direttore. Noi abbiamo, vedete qui elencati, almeno tre elementi che toccano il sistema, ma toccano anche i livelli di qualità. La direttiva del 2003, che riguardava, se ricordate, i musei, le biblioteche e gli archivi, poi una delibera sui profili professionali, che vedete qui richiamata, e anche le linee guida per il godimento, citazione, del patrimonio museale per le persone con disabilità, che è stato un filone assai interessante che l'Ibc negli anni ha seguito. Al di là di questo, esistevano sul territorio, a parte i sistemi urbani, anche sistemi più ampi, territoriali, generalmente incardinati su province. Questi sistemi sono, come dire, recensiti in qualche modo in studi professionali, quindi dal famoso studio del 2000 di Silvia Bagdad, lì sulle reti, al più recente prodotto dall'Ulm per Aspen Institute, e poi anche in quel bellissimo progetto che nel seno della normale di Pisa si è svolto, che viene in qualche modo raccolta, censita, studiata, la produzione legislativa regionale in tema appunto di musei e di sistemi. In questo il territorio ha avuto anche delle eccellenze registrate in questi studi, naturalmente essendo legati a province questi sistemi hanno visto un periodo di crisi legato al riordino delle province e il loro futuro adesso è da, come dire, da questo punto di vista da inquadrare e da trovare all'interno di quello di cui stiamo parlando oggi. I musei di qualità riconosciuti, come avete visto, avete visto anche, e che conoscete meglio di me anche la pubblicazione, sono oggi 137 e sono grossomodo quindi il 20% del totale, lo vedete da questo grafico. Quindi è un numero significativo ma non è ovviamente né la maggioranza né una quota consistente. Se poi andiamo a guardare, anche questi sono dati che riguardano l'intero, non tanto ovviamente i musei di qualità, sono nostri carotaggi diciamo, che ogni tanto facciamo, noi notiamo che un po' meno del 50% o non indica o non ha il direttore oppure se li vogliamo leggere in un modo più diretto, un po' più della metà ha il direttore. Anche questo deve essere tenuto, diciamo, nella nostra memoria per quello che vedremo subito dopo. E qui vedete altri elementi che sono parte degli standard, non solo dei nuovi, ma anche di quelli che abbiamo conosciuto, che abbiamo insieme elaborato. Vedete in particolare come chi non ha un regolamento o chi non ha una carta di servizi o chi non ha un documento contabile è una quota abbastanza significativa. Quindi io questo, diciamo, le evidenziamo per dire questa è la situazione di partenza che poi dovremo tutti insieme migliorare. La Regione naturalmente ha accompagnato il processo precedente di musei di qualità così come i processi che si sono svolti all'interno della organizzazione museale e regionale come l'ha definito la 18 attraverso i piani museali. Qui vi facciamo vedere una serie di slide che evidenziano il grosso impegno finanziario della Regione, soprattutto negli ultimi tempi e siccome i piani hanno un'articolazione triennale, qui vedete quello, diciamo, piano per anno, ma sarebbero diverse se le considerassimo come anno solare relativamente all'articolazione. cioè un piano in riferimento all'anno corrente sull'anno corrente insistono due piani precedenti e il piano dell'anno in corso. Quindi sarebbero un po' diverse ma se vedete queste slide insomma vedete un contributo significativo nelle varie articolazioni del 18 cioè interventi su base di richieste nel settore degli allestimenti, delle infrastrutture eccetera eccetera o nel settore della valorizzazione, della promozione, della didattica e così via ai quali si aggiunge poi l'altro terzo asse significativo che sono quelli degli interventi diretti dell'istituto che per tradizione attengono la catalogazione, attengono i sistemi informativi, attengono gli interventi di manutenzione e restauro e così via. Quindi diciamo che, questo per dire naturalmente che il processo di creazione del sistema in quella prospettiva triennale che ha indicato il direttore naturalmente sarà rispecchiato e troverà come strumento i piani del prossimo triennio perché ovviamente questa è un'operazione di grande spessore. I livelli uniformi di qualità che nel decreto sono ancora livelli minimi uniformi di qualità eccetera, ma chiamiamoli livelli uniformi di qualità cioè LUC, diciamo che per le regioni come la nostra che avevano in essere un sistema di accreditamento di barra riconoscimento non sono una rivoluzione. Nel nostro caso c'è una certa continuità come vedremo fa breve. Se guardate i livelli minimi, i livelli uniformi che trovate nella cartellina, diciamo l'articolazione riguarda tre ambiti, l'organizzazione, le collezioni, la comunicazione e i rapporti col territorio. Perché c'è una certa continuità con, non poca continuità con i nostri? Perché l'istituto o meglio, sì, diciamo l'istituto attraverso suoi rappresentanti ha fatto parte della commissione che ha redatto i nuovi look. Quindi l'esperienza precedente si è riversata ovviamente nei nuovi. Ci sono delle differenze, ma le differenze sono a volte nel lessico, in un quadro concettuale diverso perché tra il 2003 naturalmente e il 2016 17 o 18 qualcosa è cambiato anche nel dibattito della nostra professione. Quindi c'è un adeguamento del linguaggio, c'è un adeguamento del contesto perché anch'esso è cambiato. Basti pensare al ruolo assunto dalla comunicazione, anche le strutture organizzative del Ministero a volte si sono adeguati a questa nuova sensibilità, al ruolo dell'educazione e al patrimonio eccetera. Dal mio punto di vista un'interessante diversità ma è diversità soprattutto anche di come dire di lettura nel senso di applicazione è l'attenzione quasi l'acribia nell'identificare i processi di miglioramento e questo è un elemento di grande importanza perché come sapete anche nel nostro contesto l'adozione degli standard è stata vista nella direzione del miglioramento continuo. Noi abbiamo visto dati di partenza che anche nella nostra regione non sono come quelli che la comunità professionale si auspicherebbe o come noi ci auspicheremmo ma quello è il punto su cui costruire attraverso l'adozione dei look un processo virtuoso di graduare miglioramento che naturalmente non può essere raggiunto subito perché tranne eventi traumatici nella vita non funziona come accendere e spegnere la luce e quindi noi dovremmo lavorare anche qui insieme un altro elemento di diversità può essere l'attenzione degli stakeholder ma questo rivela una più attenta analisi del contesto in cui le strutture museali si muovono questo deve essere importante anche averne consapevolezza anche nel nostro caso perché un ambiente così diverso tra non so la Piacenza e Rimini ha contesti diversi e noi dobbiamo esserne consapevoli che relazione c'è tra look e sistema museale quelli che vedete in quella box con una linea rossa sono i tre elementi che in genere gli studi organizzativi specifici individuano come le ragioni del sistema l'efficienza economica qui ci sono ampie studi che sia la base della costruzione di un sistema ci sta noi parliamo nelle esperienze che abbiamo senora avuto piccoli comuni mettendosi insieme hanno magari condiviso strumenti filoni di azione che difficilmente sarebbero stati praticabili a livello singolo quello di look si colloca probabilmente in questo che la letteratura chiama isomorfismo cioè l'adozione di strategie simili quindi il fatto che si parta dai livelli uniformi di qualità per costruire un sistema non è insensato ci sono profonde ragioni un'altra è la complementarietà ad esempio lo studio dell'Ujul mi evidenzia come rispetto a quello di dieci anni prima come ancora più e noi qui siamo in presenza di un sistema molto diversificato in cui la complementarietà è certamente da studiare ma certamente è presente tutto questo quindi abbiamo gli ingredienti per costruire un sistema e magari immaginarlo come un sistema anche multiscala volendo questo può essere poi declinato in diverse maniere ma multiscala vuol dire che semplicemente i servizi vengono fatti laddove è conveniente e laddove è più efficace e questo ragionando appunto insieme nei territori per quanto riguarda i territori è un livello più ampio di comunità professionale può essere a livello regionale ma non solo questo è un percorso che può essere fatto certamente come dicevo richiede un grande impegno soprattutto intellettuale e culturale da parte degli operatori ma io credo sia un'operazione fattibile insieme questi i prossimi passi che faremo e sono stati in qualche modo anticipati una forma di partecipazione entro il 15 maggio avete visto prima la definizione della governance del processo la costituzione di tavoli territoriali e qui ricordo che l'istituto sarà presente anche nei territori cioè non sarà una cosa in cui staremo a Bologna ma andremo anche nei territori anche perché come sapete lo strumento di cui prima si avvaleva l'istituto cioè le province non hanno più competenze in questo tipo quindi anche come accennato come delineato nella legge di riordino l'Ibc deve ovviamente avere un ruolo un po' diverso rispetto al passato organizzeremo incontri sul territorio per la presentazione e il confronto sui luc cioè quello che oggi naturalmente abbiamo solo detto in una forma molto generale l'approfondiremo sulla base del testo che avete in cartella perché non dico che dovrà essere la Bibbia diciamo ma dovrà essere un testo di riferimento anche con una lettura comparata col precedente che non spaventerà quindi nessuno perché non trovate 24 ore di apertura al pubblico erano anche nei vecchi standard ad esempio quindi non è che come livelli minimi non trovate delle cose però bisogna che sia un testo conosciuto molto bene da tutti noi poi ci sarà la costituzione dei tavoli tematici sempre avete visto prima delineato dal nostro direttore e infine l'avvio del processo di riconoscimento di Luca attraverso la piattaforma e qui naturalmente è una cosa che riguarda molto l'istituto e molto la piattaforma di cui accennava anche il dottor Lampis quindi come vedete è un calendario nutrito per quest'anno che coinvolge i musei e dobbiamo avere tutti grosse ambizioni cioè dobbiamo realizzare bene questo processo bene come sistema come comunità ripeto non solo come istituto perché forse vorremmo è come volere la luna ma la luna come vedete ci sono dei momenti in cui non bisogna vergognarsi di volerla e questo mi sembra uno dei questi chiudo invitandovi a compilare la forma entro il 15 di maggio che trovate poi alla urla qui indicata la forma è rivolta ai responsabili dei musei ma per noi naturalmente è fondamentale perché ci consente di indagare gli ambiti tematici di maggior interesse le azioni prioritarie per l'avvio di un sistema museale che appunto deve essere il più possibile contiviso e partecipato grazie grazie al dottor Leombroni potresti tornare un secondo sulla